Ecco, adesso cominciamo la quarta lezione che intitoliamo Pitagora e le donne. È un argomento forse di tutto il pitagorismo il più affascinante, ma quello sul quale non è stato elaborato né scritto granché. Noi sappiamo che Pitagora aveva le donne, le allieve, accanto ai maschi. Quindi uomini e donne non c'era nessuna differenza. E come è arrivato a questo punto? Da dove partiva? Allora, vediamo che la donna nel pitagorismo è la vera rivoluzione. Perché? Perché all'epoca, a parte che c'era la schiavitù, a parte che la donna non aveva nessun diritto, con Pitagora arriva non solo a conquistare la parità nella scuola tra gli allievi, e noi abbiamo ancora il nome di ben 17 allieve pitagoriche della scuola di Crotone, che erano lucane, che erano siciliane, che erano di varie parti dell'Italia di allora. Sappiamo anche però che Pitagora arrivò a questa decisione dopo aver lungamente riflettuto, perché si mise anche in contrapposizione a quella che era il mondo di allora. E che questo però poteva avvenire perché si trovava a Crotone, si trovava in Italia, dove le donne già erano libere. Quindi non era poi alla fine questo grande scandalo che lui avesse preso delle donne nella sua scuola. Pitagora aveva le idee molto chiare sulla donna. Idee molto chiare, capiva il grande potere che la donna ha sull'uomo, sul maschio. E capiva anche che però la donna aveva un'attrattiva così forte che andava in qualche modo sia assecondata che anche favorita. Cioè, lui cosa dice? Quando noi diciamo che per Pitagora la donna è uguale all'uomo, noi non diciamo una cosa esatta, perché Pitagora non era di questa opinione. Pitagora diceva un'altra cosa, diceva che la donna aveva maggiore dignità dell'uomo. E lo spiegava anche, diceva anche il perché. Il perché era che la donna per Pitagora era depositaria naturale di due cose essenziali. Il primo è la giustizia. Giustizia nel senso che la donna, la madre, non fa nessuna differenza e nessun favoritismo tra figli e figlie, il primo, il secondo e l'ultimo, ma tratta tutti con assoluta ugualianza allo stesso modo. Il secondo elemento è la pace, la pacificazione. La donna come madre non vuole che i figli vengano uccisi, per cui la donna non vuole le guerre. La donna vuole la pace. Chi vuole la guerra allora non è sicuramente la donna, è il maschio. Quindi abbiamo un approccio della donna che è completamente diverso rispetto alla dottrina di allora. Non solo, ma è anche molto sofisticato come elaborazione della sessualità della donna. Pitagora con le donne, noi non sappiamo che rapporti ebbe, però sappiamo che si sposò a Crotone quando già per l'epoca era molto vecchio, probabilmente aveva già i suoi 50 anni. E già 50 anni è comunque vecchio per uno per sposarsi. Immaginiamoci poi in quell'epoca dove raramente già si avvicinava l'età dell'uomo a 50 anni. Però lui evidentemente vinse questa sfida, si obbligò a vincerla e sposò la giovane Bella Teano, che è la madre dei suoi figli, chi dice tre, chi dice quattro. Pitagora, della donna, capì anche la sessualità e capì anche l'estro e lo assecondò. E di fatti noi sappiamo che Teano, la quale conduceva i riti nel Tempio e le donne che andavano a fare le offerte alla dea, diceva delle cose strane. Diceva, ma come proprio tu che sei la moglie del filosofo e dici queste cose? A Teano chi le aveva insegnate queste cose? Sicuramente lui. E cosa diceva Teano? Teano diceva per esempio che la donna che va col proprio marito, che va a letto, che fa l'amore col proprio marito, non ha bisogno di nessuna purificazione. Mentre diceva anche che la donna che va con un uomo che non è suo marito, non potrà mai purificarsi. Non solo, ma diceva anche un'altra cosa, che la donna quando fa l'amore col marito deve lasciare il pudore quando si toglie la tunica. Deve lasciarsi andare, deve godere. Ma quando si riveste, quando rimette la tunica, deve indossare anche il pudore di nuovo. Quindi questo riconoscimento della sessualità come dono che va vissuto bene nella libertà. Ecco, questo è un concetto veramente rivoluzionario e nuovo del pitagorismo, perché il pitagorismo come pensiero, e questa è la sua forza, torna oggi più attuale che mai, torna oggi più attuale che mai, perché il mondo di oggi, se non va bene, se va male, questo succede perché è essenzialmente un mondo che possiamo definire antipitagorico. Pensiamo semplicemente agli Stati Uniti d'America, la più grande democrazia, e non c'è dubbio che sia il primo paese al mondo della più grande democrazia, ma non c'è uno solo dei valori pitagorici che vengono osservati in America, dove mangiano carne a tutto spiano, dove si predica solo il successo, si predica l'accumulo dei soldi, la vittoria, eccetera, eccetera. Ecco, quindi l'attualità del pensiero pitagorico per una vita vissuta in armonia, oggi forse è l'unica soluzione possibile dei conflitti del mondo, ma la donna del pitagorismo non è che rimase inerte come lezione, no, perché avendo acquistato già la sua libertà nell'Italia, libertà che poi fu consacrata, se vogliamo, e ampliata da Pitagora con il riconoscimento della donna come madre, come potenza generatrice, passò tale e quale nel cristianessimo. Passò nel cristianessimo e noi sappiamo che Gesù aveva tante donne al suo seguito, che erano più addirittura degli apostoli, quindi ecco un altro frutto del pitagorismo che passò nel cristianessimo. La donna cos'è? Allora, il problema della donna, noi se vogliamo capirlo bene, come Pitagora l'ha presentato e come si rapporta nel mondo di oggi, è il seguente. Pensiamo ad Aleppo, la città di Aleppo, la vediamo tutti i giorni in televisione, è un cumulo di macerie, si ammazza a non finire, i bambini nelle scuole, è un massacro, una vergogna, uno schifo, che nessuno riesce a venire a capo. Il Papa non lo ascolta nessuno, Putin fa quello che vuole, Erdogan quello che vuole, Obama quello che vuole, quelli dell'Isis non ne parliamo. Cos'è questo mondo? E non è un mondo che ci piace, perché è un mondo al testosterone. Cos'è il testosterone? È l'ormone maschile della competizione. Ci vuole uno che vince e l'altro che perde. Cioè l'uomo si scarica di questa tensione solo nella lotta. Ora, se non andiamo avanti così, vediamo che, analizzando la storia, c'è stato i fondatori di religioni che sono stati tutti maschi, i grandi monarchi fondatori di imperi da Carlo Magno a Cesare, Alessandro Magno, Napoleone, tutti maschi. I grandi tiranni, tutti maschi, da Hitler a Stalin, chi più ne ha più ne metta. I boia, i boia tutti maschi, non conosco nessun boia donna nella storia. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che a noi è sfuggito di mano, ma non solo è sfuggito di mano, è sfuggito di testa, nella comprensione della storia. Cioè, probabilmente, quello che è successo è che il maschio guarda sempre la storia attraverso i propri occhi e non riesce a decifrarla. Abbiamo però delle indicazioni precise noi, che la donna può cambiare le cose. Ecco, anzi, se c'è un messaggio chiaro, 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 che viene dal pitagorismo e che è indispensabile al mondo di oggi, è che solo la donna può cambiare le cose. Perché diciamo questo? La donna può cambiare le cose perché se riesce a calmare il maschio dall'interno, perché il maschio ha paura della donna, il maschio pensa che la donna può andare con un altro, può non volergli bene, può fare chissà che cosa, e quindi cosa fa il maschio? Sottomette la donna. La picchia, la tratta male, a volte la uccide anche. Oppure sappiamo che, insomma, la convivenza tra uomo e donna è sempre un fatto molto problematico, che può anche avvelenare i rapporti anche alla vita coniugale. Ora, noi possiamo però immaginare un altro orizzonte dove la donna sviluppa quelle che sono le sue qualità fondamentali, che sono la maternità, l'amore. Il sesso è un'altra cosa, il sesso è un'altra cosa, e il sesso è l'elemento che ancora non è stato ben decifrato da nessuno, secondo me. Per cui, insomma, tutti quanti sguazziamo in quell'argomento senza venire a capo di nulla. Il sesso è un elemento che va capito, che va praticato in un certo modo, perché, secondo la mia teoria, che adesso non sto a spiegare, il sesso altro non è che la porta dell'immortalità. Ma su questo argomento poi faremo magari una lezione a parte. la donna ha la capacità di cambiare il mondo. Cosa intendiamo noi per cambiare il mondo? Intendiamo una cosa molto semplice, distruggere le armi. Cosa servono queste diecine e diecine di migliaia di bombe atomiche che costano cifre folli, che impoveriscono tutti i bilanci e tutte le finanze degli Stati? Non servono assolutamente a nulla. Cosa serve questa finanza fuori controllo che mangia risorse e non si sa dove sono poi queste risorse, dove finiscono? Dove sono questi immensi soldi, queste cifre da capogiro? È un mistero. Ora, una donna al comando del mondo, ma molte donne a governo dei popoli, secondo me è l'unica risorsa che potrebbe essere per cambiare realmente le cose. Come farlo? Ecco, noi abbiamo adesso una possibilità, secondo me, ripartendo da dove la storia si era fermata. Ora, sappiamo che nel Pitagorismo aveva allignato un uso molto bello, che era il tieso. Tieso voleva dire un insieme, una schiera, una colta, un raduno di donne. Noi sappiamo che c'era il tieso della poetessa Safo a Lesbo e il tieso pitagorico della poetessa Nosside a Locri, che era una pitagorica Nosside. Cosa facevano queste donne? Facevano cose da donne, cose belle. Recitavano poesie, cantavano, danzavano, facevano corone di fiori, che poi portavano alla Dea, al Tempio, quindi trovavano uno spazio di libertà, protette dalla pratica religiosa. Ovviamente poi il tieso scomparve nel tempo e probabilmente confluì come accolta di donne negli ordini monacali femminili. Ma quello che noi vogliamo fare e che noi stiamo per attuare già la prima pre-apertura del tieso, dove non è che noi diciamo che devono stare le donne, no. Le donne e i maschi e gli uomini assieme devono prendere coscienza che c'è una crisi in atto spaventosa e trovare il sistema di inserire quello che Goethe chiamava l'Eterno Femminino. Cos'è l'Eterno Femminino? Sono i poteri sacri che la donna ha in sé come madre, la sacralità della donna. La donna è la madre di Dio. Noi vediamo dalle apparizioni della Vergine Maria tutte quante quando la Madonna non dice ma io sono la figlia di Dio e dice sempre io sono la madre di Dio. Quindi Dio è mio figlio. E allora se noi seguiamo questo filo d'oro che unisce il destino dell'uomo, il destino della donna, la violenza che c'è stata inarrestabile, le guerre infinite, noi vediamo che l'unica possibilità oggi offerta all'uomo per la propria salvezza e la salvezza del genere umano ma anche per la qualità giornaliera della sua vita, altro non è che capirsi, forse per la prima volta nella storia, mettersi assieme, parlare, discutere, spiegarsi, calmarsi e creare un mondo nuovo. Ora questo esperimento noi lo facciamo dove? Lo cominciamo nel posto dove questo già è stato iniziato 2500 anni fa e non è che noi ignoriamo che sia passato il tempo e che ci sia stato un decadimento di questa terra, c'è stato ed è stato terribile e proprio quello è la prova che noi offriamo al mondo. Guardate che se voi non fate quello che diceva Pitagora, quello che dicevano i grandi, noi voi finirete come la Calabria, pure peggio, perché qui in qualche modo ancora l'antica radice un po' resiste, ma se voi andate per conto vostro fate delle porcherie spaventose, noi nei forni mettiamo il pane e noi mettiamo la gente. Non l'abbiamo mai fatto, non lo faremo mai, spero che nessuno lo faccia mai più. E quindi con questa dignità, questo recupero della donna, della sofferenza del passato, delle guerre infinite, dei lutti, delle lacrime, noi dobbiamo dire adesso basta. Basta una volta per tutte. Ci siamo stufati di star male. Noi vogliamo ferocemente, siamo determinati a stare bene. e se lo schema passato non è servito a cambiare le cose, noi lo inventiamo nuovo, di zecca. Partiamo con i tiesi, dove uomini e donne possano confrontarsi su questi temi, al di fuori della politica corrente. La politica, lo sappiamo, non funziona più, ma non funziona più da nessuna parte, perché propongono sempre lo stesso schema del bilancio, dello Stato, della lotta di chi vince, di chi perde, di un partito che blocca l'altro, poi l'altro blocca l'altro, poi l'altro ricatta l'altro. Sono robe da operetta ormai, ridicole. Nessuno ci crede. Quindi da dove viene una potenza rigeneratrice, se no da quel sacrario che è la donna, che è un amore incondizionato, che è una depositaria naturale della giustizia e della pace. Quindi in questa ottica noi ci affidiamo, partendo di nuovo da questa terra, a questa visione grandiosa che si apre sul mondo. E questa visione è stata preparata da tanti eventi meravigliosi nella storia. Quando, ai tempi di Pitagora, qui arrivava il dio Dioniso, banco, col tirso, arrivava e le donne che facevano scappavano. Scappavano di casa, abbandonavano figli, mariti, padri, genitori, focolare, telaio, se ne andavano col dio nei boschi, bevevano vino, entravano in danza orgiastica, gridando, e voi è viva, e voi è viva. si accoppiavano con gli schiavi ai quali loro trasmettevano la libertà. Quindi facevano soltare una istituzione sociale ingiusta ed era la donna e il sesso che operava questo miracolo. Questo concetto del potere della donna come unico potere destabilizzante della società ingiusta è la stessa cosa che succede o che è successo secondo la Bibbia nel giardino del paradiso terrestre. C'era un albero nel centro del giardino che Dio ha detto di quel frutto non dovete mangiarne perché se mangiate quel frutto avrete conoscenza del bene e del male e diventerete come Dio. Se lo mangiate morirete. Allora Eva cosa pensa la donna col cervello di donna beh se c'è il frutto e divento come Dio cominciamo a mangiarlo e poi vediamo si risolve il problema proviamo la donna il maschio cosa fa Adamo il maschio dice eh ma sai Dio ha detto non mangiarlo poi non vorrei che ti tutà insomma si impastrocchia ma la donna sfidando quella proibizione cosa fa esattamente fa saltare un ordine imposto che non le piaceva quindi alla fine chi obbedisce praticamente al suo cuore al suo sentimento è Eva la vera madre di Gesù a parte che Maria è Eva Gesù altro non è che un pitagorico e questo lo vedremo il quale è figlio culturale sia di Eva che di Maria quindi è figlio di due donne la prima del mondo è la sua madre sua madre Maria e che viene poi viene ucciso da chi? Viene ucciso da maschi che hanno il potere i sacerdoti Caifa potere politico Pilato Erode il re si giocano chi? Si giocano l'innocente perché loro sono i maschi che hanno il potere il potere è violenza questo mondo è andato avanti sulla violenza perché è stato un mondo maschile al testosterone che ha negato alla donna la possibilità di esternare di dare la ricchezza che lei ha dall'inizio dei tempi qui dobbiamo cominciare a riscrivere la Bibbia dalla capo secondo me e questo può farlo solo una civiltà che è alternativa a quella e che aveva ipotizzato un modo di vivere completamente diverso quindi noi chiudiamo fra poco questa lezione con l'augurio che sia uomini che donne partecipino poi al Tiaso il Tiaso cos'è? è un incontro dove si parla dove ci si conosce si parla di questi temi non è la politica spiccia che ci interessa non è la lotta che è per andare al Parlamento che ci interessa ma è una presa di coscienza profonda per la prima volta nella storia perché oggi abbiamo gli strumenti capaci di analisi sappiamo i libri sappiamo le cose sappiamo come sono andate come potrebbero finire sappiamo anche però basandosi sulla vecchia lezione del pitagorismo e su tutti i fatti che sono successi dopo che c'è una possibilità di cambiamento e con questo chiudiamo anche questa lezione che si parla che si parla di amici che è un problema